Nella realtà la risposta è positiva in tutti i tre casi, anche se sono diverse le esplicazioni, potrebbe essere che in un certo momento è soprattutto il deficit di fiducia che determina la nostra possibilità di avanzamento. Nota a piedi fa, se voi sapete che fiducia cosa vuol dire letteralmente, fiducia deriva dal latino fides, fides in latino, sapete cosa vuol dire, vuol dire corda, corda era la corda del liuto che dovrebbe essere ben tesa affinché potesse mettere il suono nell'antica Roma, eccetera. Questa corda, se è tesa verticalmente, è la fede. Cos'è la fede? È la corda tra l'umano e il precedente divino, se uno è credente. Se la corda è tesa orizzontalmente diventa la fiducia. Quindi fede e fiducia significa la stessa cosa, corda. Se la corda è tesa verticalmente verso la precedente diventa la fede e la fede. Se è tesa orizzontalmente tra me e te, questa diventa la fiducia. Quindi potrebbe essere che in un determinato territorio la variabile scarsa per scendenza sia la fiducia perché qualcuno ha tagliato la corda. Grazie. 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 e che su questi temi cominciano a discutere fra di loro, poi secondo il metodo deliberativo si confrontano, discutono, litigano, perché litigano intanto va bene, come il filico, i metodi quando litigano è solo il tempo, però subito dopo loro lo sanno, dopo che hanno litigato si guardano, si devono abbracciarsi, si devono dare un bacetto, perché la regola è questa, la regola è questa, che si può litigare a continuare, che dopo, come si dice, si faccia la pace e dopo che ha citato il bacetto sono ancora più uniti per il discorso della forma, no? E a notarlo si accorcia, eccetera. Ecco allora, vedete un secondo ambito dove, al di là della vicenda immediatamente contingente delle prossime, quando saranno le elezioni, un comitato come questo deve cominciare a lavorare. E' perché il comitato regionale, secondo me, ha da dire su questo, voi potete formulare, i vostri e le proposte si confronteranno con quelli di altri, di altri, eccetera, ma voi non potete accettare che qualcun altro da Roma, si fa per dire da Roma, decida per voi cos'è il vostro benessere, il vostro star bene, cos'è la vostra felicità pubblica, perché questo sarebbe una contraddizione interna. Ecco allora, vedete, un secondo ambito dove questo movimento, il movimento dei movimenti civici della Sicilia potrà giocare un ruolo importante. Infine, un terzo ambito, e quello che forse è più grosso di tutti, è quello che riguarda il cosiddetto modello di sviluppo. E tutti dicono, dobbiamo reimpostare e rivedere il nostro modello di sviluppo. Bellissimo. E cosa vuol dire concretamente? Desiderio, lo devo dire, decidere una via piuttosto che un'altra. Via, la stessa cosa di metodos, metodos in greco vuol dire via, la via che conduce le antiche igreze a la verità, cioè a qualche certo parte. E allora, la decisione sulle caratteristiche del nuovo modello di sviluppo, chi lo devono decida, i burocrati o i politici che stanno a Roma, ma c'è anche l'abbia altro, perché lo sviluppo riguarda tutti noi, tutte le nostre comunità. Non può essere, a meno che uno abbia delle simpatie dirigistiche di tipo dittatoriale o autartico, e allora chiaro, si dà il compito al, come dire, al comandante supremo di decidere lui. A questo non posso pensare che a qualcuno oggi vengono in mente queste cose. Ecco allora, un terzo ambito dove il vostro lavoro andrà oltre la mera scadenza elettorale. Ecco perché non è solo un problema di dire siamo a un nuovo partito. È ridicolo, perché questa vostra iniziativa avrà e deve avere un orizzonte temporale di meglio per un po' tempo. E allora, in conclusione, quello che volevo dire è questo. Perché in questo momento voi giocate il ruolo, come si dice in teoria dei giochi, che è una roba che si fa anche in economia, ma anche fuori, e voi giocate il ruolo della minoranza profetica. Tecnicamente si definisce minoranza profetica un sottinsieme di una popolazione che, conoscendo le difficoltà del tipo dall'altro eccetera, gioca una strategia che si chiama strategia cooperativa, pur sapendo che all'inizio, e per un certo lasso di tempo, gli altri non la seguiranno o addirittura vi irrideranno, vi preteranno in giro. E perché si chiama profetica? Perché vengono lontano, gli altri non vengono lontano. Allora, la minoranza profetica, quando diventa maggioranza, sotto due condizioni, che si dimostra, lo dimostriamo noi con i noti, come si chiama, teoremi, modelli, teologi, che in un dato contesto, se la minoranza profetica, e voi siete già adesso, soddisfa due condizioni, dopo un po' di venta maggioranza. Quali sono le due condizioni? Il primo, non deve avvilirsi, cioè non deve stancarsi, perché all'inizio arriveranno anche delle lavori, colpi bassi di un tipo, dell'altro eccetera, bisogna resistere. Quindi non la vediamo. La seconda condizione è ancora più importante, ed è questa, attenzione, bisogna mostrare con i fatti, che questo tipo di strategia, che è quella di attassare la frontiera, fa sta bene la gente, fa sta bene o fa sta meno, cioè produce un vantaggio. Perché se pensiamo di convincere gli altri, con la retorica, con le parole, o con le prediche, bisogna cominciare con i fatti e far vedere che di fronte a certi problemi o a certe sfide, seguire questo percorso fa sta bene, fa sta bene te, non fa sta bene solo la minoranza. Perché il concetto di bene comune non è il bene vostro e il male mio, no, è il mio bene assieme al nostro bene. ovviamente in proporzioni diverse, in forze diverse eccetera. Se molti pensano che viene in comune voglio dire che io mi sacrifico, quella è un'altra cosa, quella è la testimonianza dell'eroe, del santo, del martire, eccetera. Ma noi qui non siamo in quel pacco, in quel limite. Noi dobbiamo batterci per la strategia e far vedere che procedendo in un certo modo, io non chiedo agli altri che non fanno parte di questo consesso di rinunciare, anzi, dico guarda che se tu segui questo cammino e vieni con noi, stai meglio tu, non solo stiamo meglio noi o altri eccetera. Se queste due condizioni sono soddisfatte, state sicuri, date diretta la minoranza di vita maggioranza. E allora il gioco è fatto perché la frontiera si avvassa. chiudo solo con questo, se posso dare un consiglio, perché non date vita domani quando approverete i vostri documenti ad una scuola di formazione civile? applausi lui essendo generoso, lui vi aiuto, non sono io che vi aiuto. Cellini è stato menzionato che a Catania, Cellini è un professore relativamente giore, molto bravo, molto di forte, lui di Bologna che era con noi, tra il nostro mio dipartimento, lui ha fatto la scelta di venire a vivere nel centro di Sicilia, sposato da Siciliana e quindi anche quella è una bella testimonianza, avete tanti altri intellettuali, ma sto a farli nuovi perché altrimenti se ne dimentico uno poi sembra che io voglio gli angustini, ne avete tanti qui a Palermo, Catania, Messie e anche altri che non sono accademici. Se voi faceste una scuola di formazione civile, non potete chiamare la scuola di formazione politica perché altrimenti dicono ecco, fate il partito. Voi chiamate la scuola di formazione civile, tutti gli altri non sanno che cos'è, mi chiedono che cos'è, mi spiegate. Applausi Applausi Ma questo mi serviscono che qui c'è Padre Rotario, che mi serviscono di scuola di formazione e quindi evidentemente potrebbe darmi una grossa mano e così come tanti altri. Voglio chiudere con un pensiero che mi è sempre piaciuto, che vi voglio, spero che piaccia che voi, ed è di Agostino. Agostino, Agostino è santo Agostino, Agostino dice La speranza è la virtù che ha due bei fatti, anzi una figlia bellissima e un figlio altrettanto bello. La figlia bellissima si chiama rabbia, la rabbia nel vedere le cose come stanno andando. Il figlio si chiama coraggio, il coraggio di vedere come potrebbero andare le cose. Mi è sempre piaciuta questa definizione, ci fa capire che la speranza non è la virtù di chi sta così, ma è la virtù di chi si arrabbia e noi non ci arrabbiamo più. Dobbiamo tornare ad arrabbiarci, però... Però dobbiamo arrabbiarci con il coraggio di vedere come potrebbero andare diversamente le cose perché se ci arrabbiamo solo cadiamo nella così facile protesta di cui tutti sappiamo. Allora dobbiamo tornare ad arrabbiarci con il coraggio perché mentre l'animale vive nel tempo, ma non ha il tempo, noi esseri umani viviamo nel tempo e abbiamo il tempo. Ed avere il tempo vuol dire avere la capacità concreta di mutare il tempo. Grazie molto. Grazie. 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 Grazie.